Nella vita bisogna avere il coraggio di guardare le persone negli occhi, di sognare un futuro diverso e di testimoniare la gioia della fede anche nelle difficoltà. La visita di Papa Francesco a Cesena si è conclusa nella cattedrale della città per l'incontro con i sacerdoti, religiosi e componenti laici della chiesa locale. Un appuntamento durante il quale il pontefice nel discorso pronunciato largamente a braccio ha voluto richiamare l'attenzione su alcuni temi di grande attualità. In un'epoca in cui si rischia di perdere la capacità di guardare, sempre esposti ai tanti mezzi di comunicazione, Papa Bergoglio ha chiesto di scrutare negli occhi le persone e di innescare una rivoluzione della tenerezza. Ha chiesto di proteggere le famiglie permettendo ai genitori di avere tempo per poter giocare con i propri figli, di non cedere alla tentazione delle chiacchiere, veri atti terroristici e di testimoniare la gioia dell'incontro con Cristo. Un pensiero è andato anche ai giovani, al rapporto che dovrebbero avere con gli anziani. Si capisce che gli anziani vanno in pensione ma la vocazione loro non va in pensione e loro devono darci a tutti noi, specialmente i giovani, la saggezza della vita. Dobbiamo imparare a fare che i giovani collochino con gli anziani che vanno da loro. Il profeta Gioele ha una bella frase nel capitolo terzo, versetto primo, «I vecchi sogneranno e i giovani profetizzaranno». E questa è la ricetta rivoluzionaria di oggi, che i vecchi non entrino in quella strada di dire «ma sono cose passate, tutto è arroscinito». No, sogna, sogna! E il sogno del vecchio farà che il giovane vada avanti, che sia entusiasmi, che sia profeta. Ma sarà proprio il giovane a far sognare il vecchio e prendere questi sogni. Grazie. 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 Grazie.